In presa della maceratese che sbanca il Paolo Mazza di Ferrara e rifila altri 4 gol dopo quelli di Siena di Domenica, ha la capolista Spal che così vede avvicinarsi sia il Biancorosse a meno 7 che il Pisa a meno 4. Grande prova di personalità dei ragazzi di Bucchi che trovano il settimo risultato utile consecutivo al termine di un match entusiasmante con una difesa impenetrabile, a parte uno svarione nel primo tempo, e grandi giocate in attacco. La partenza è subito decisiva al dodicesimo, Togni batte una punizione dalla destra e colpo di testa di Danna che impegna severamente Branduani. L'azione continua e sempre Branduani salva su Koukou, mentre il tiro successivo di Foglia è deviato in angolo da Mora. Sul corner maceratese in vantaggio con buon aiuto che svetta più alto di tutti e firma lo 0-1. La Spal non reagisce al ventesimo ci prova Cellini che fa un numero al limite dell'aria, ma il suo tiro è da dimenticare. Al ventottesimo però ingenuità di Carcalis che si fa anticipare da Lazzari e lo abbatte, rigore netto nonostante le tante proteste dei biancorossi, Cellini dagli 11 metri non sbaglia. Bucchi viene espulso e un minuto dopo un'altra protesta dei locali per un presunto fallo su Finotto. Nei minuti di recupero del primo tempo Spal vicinissima al vantaggio con una gran conclusione di Castagnetti che Forte manda sulla traversa. Nella ripresa squadre che sembrano temersi ma con la maceratese che ha il controllo assoluto del gioco. Non succede nulla però fino al 66esimo quando Foglia, l'uomo più caldo del momento, dopo la tripletta al Siena, si inventa un aerogol che spacca la partita. 1-2. La Spal reagisce subito al 69esimo Castagnetti impegna Forte che respinge corto, Cellini si avventa sulla palla a colpo sicuro ma il numero 1 biancorosso è strepitoso e devia in angolo. Questa però è l'ultima occasione per la Spal con la maceratese che invece va in rete altre due volte. All'83esimo Coco non sbaglia davanti al portiere e, dieci minuti dopo, Buonaiuto completa il poker con un potente destro sul primo palo. Entusiasmo tra i tanti tifosi maceratesi a corsi a Ferrara e sogno promozione che continua. Sabato prossimo all'Elvia Recina arriva la Pistoiese. Grazie.